Matteo! Matteo! Sente no! Ti aspettiamo presso l'auto! Sente no! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo in diretta dal mare. Non l'ho potuto registrare prima perché a me si sentiva l'audio. Dunque ci siamo fermati per rannocchiare qualcosa in autogreen. Pinoli. Pinoli e mandorle. Quindi ci vediamo appena con mal mare. Grazie a tutti. Ciao. 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 dai me la prendiamo secati ragazzi abbiamo premuto 1,3,4 vediamo in quale andiamo piano 4 andiamo come in quale e vado vado che sono Non vuole entrare nel tuo verso! Figata! Aspettate, chiamolo per il compone! Signora! Aspetta, aspetta, aspetta! L'ap Richard! Sii! 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 Oh! Siii! Poo-choo! Non vuole! Non vuole! Inizia! Capitì! Lascia la mano! Lascia la mano! Allora! 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 Gli ho i culo! Gli ho i culo! Cos'ha? Non mi coñamo qui! Cos'ha ne vado l'uomo? Mamma, non lo smertre! La videocameringi la fai morire! Help! Ma, la scheda? Oddio! Oddio! Non ce l'ho! Non ci sento! Non ce l'ho! Non ce l'ho! Non ce l'hai! No! Tu! Tu! Stai qui! Stai qui! Stai che sei un design! AH 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 La capiglia! La schiena! Aspetta! Sei in caso? Arcol ancora su le mani per una settantiesima volta Mi hai dato nella capiglia Sì, nella capiglia Comunque è spesa No, dai Come le ripeto Bocsardini Bocsardini Ma hai chiuso Ma sei andato al piano 4 Perchè ci eravamo ascoltati la La terza era al piano 4 Voglia di fare sesso Ci vediamo domani, ciao! Ragazzi questa giornata finisce qui Vero Andrea? Vero Vero Quindi ci vediamo domani mattina Di frutta secca eccetera E della frutta Dopo Un bicchiere di terno Siediti Come nella boccia di vino E' un po' E' un po' E' un po' E' un po' Ok ragazzi siamo qui in giro con Andrea Zanetti in bici Allora in realtà nel frutta non può ma Ma cazzo per i miei anima Poi divertente stare su ste bici Non c'hanno lì 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 Ragazzi Ragazzi oggi c'hanno lì In mare In spiagge E' un sole Quindi non ho registrato quello E stasera andiamo a mangiare il sushi Quindi qualcosa riprenderò E ci vediamo stasera in contatto Andrè non c'hanno adesso Adesso si va al sushi vero Andrea? E' vero Quindi ci vediamo la E' vero Andiamo a prendere le bici che ci danno in hotel Ovviamente Vi facciamo vedere il nostro bolide Mamma mia La numero 24 poi ne parliamo Non è vero Oddio C'ho la fotocamera che da standard di numeri Andrea Da dove siamo partiti Dillo Da Cervia ma è stato bello il viaggio Cioè come siamo arrivati qua? Siamo emozionati Con un signore che ci ha aiutato Intanto come potete vedere questo Sono seguiti per boh 3 quinti del viaggio Sì perché lui abitava lì Questo è il grande cielo E niente Adesso facciamo un giro di spiagge Stiamo andando a prendere il pullman che ci porta a casa Quindi questa avventura finisce qui Sì Molto bello Vi farò vedere anche dei pazzi di viaggio Ci vediamo in pullman Ok ragazzi siamo partiti Come potete vedere siamo in autostrada Scusate Scusate Io spero una cosa Che ci fermiamo in autogrill Perché sto morendo di fame Non sono l'unico Anche questo qua di fianco Scusate di fame Autogrill Quindi io e Matteo Stavamo pensando di Magari Comprere qualcosa Eh Un po' Anche lui il mcdonald Il mcdonald Io faccio un mix un po' di tutto Sì ma non credo Ma quando ti faccio ad altro Eh infatti Vabbè comunque Siamo in autogrill dopo un bel po' Perché stavamo impazzendo io e lui Quindi Facciamo un po' di mcdonald Un po' di Abbastanza un po' tutto Sì vabbè un po' tutto Allora aspettate un attimo Perché questo qua fa il furbo Io Rossano tu lasciali in descrizione Il suo instagram Anche lui Non lo insultare perché all'inizio voleva rimanere fit In questa vacanza Sto stronzo Poi Allora ragazzi Poi ci crede Vabbè ciao Ci vediamo dentro Altra era Ragazzi ci siamo fermati per mangiare i tramezzini Che lui è già finito Sono qui Uno è mio giuro eh Gli altri due sono suoi Uno c'è l'altro in tasca E lo mangerò sopra il bus Quindi Andiamo a prendere il bus che ci aspetta Che butta questo Sprea fico Sprea fico Ehm Non lo ha spunto Basta te Ragazzi questo video finisce qui Il giorno dopo Perché sono arrivato a casa Ero stanco O Sono subito andato a letto Diciamo sì Ehm Quindi Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto Ehm Noi ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi Ehm 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 Ehm